Hi guys, folla galera, la chicos, ciao ragazzi Vi porto oggi una nuova gara creata, diciamo, nuova gara segreta Creata da qualche creatore random E sono qui con uno youtuber italiano ragazzi Secondo me uno dei più bravi Salve a tutti ragazzi È proprio lui, vai vai Salve a tutti ragazzi, sono Zedawillix Ragazzi, è qui a farci compagnia con la sua Tyrus Però tu hai preso la Tyrus? Sì, stavolta anche senza verniciatura Oddio, vediamo un po' sto bordello gigantesco Vediamo un po' come va a finire sta gara Non ne ho una più palidea Qui c'è una piattaforma immensa direi Vediamo un po' Ok ragazzi, dai 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 Tutto molto semplice per ora Oddio, mio dio Turbo qui, vediamo questi tubi come sono Altro turbo C'è anche Marchino ragazzi Oh guarda sto tubo qui Salutiamolo Tantissimo Figo Quindi non sei solo in compagnia di me Ma c'è anche il mio amico C'è anche Marchino ragazzi Che mi chiamo dal salotto Oddio, ma cos'è sto coso? Fruttiamo tutti nell'aria Guarda qui, c'è proprio un buco I believe I can fly Yeah Andiamo, andiamo C'è il primo posto Dai, dai, dai Altra salita, anzi scusami Con il turbo Dove cazzo si arriva qui? Oh madonna Sbam Guarda quanto è grande il tracciato lì È immenso È una cosa veramente comunque molto eccezionale Sì Eccezionale Ma io A parte tutto Se parliamo così come i meme Sono veramente Euforico Guarda queste creazioni perché C'è Non so cosa aspettarmi Veramente eufobico Qui, qui? Ok, qui è tutto il circuito Molto semplice sta gara Pensavo qualcosa di più complesso Però abbastanza figa Sì, non è niente di A differenza delle gare che abbiamo fatto con te Sì, sul Ragazzi, ovviamente Vi lascio il Oh cazzo, il video Che ho fatto con Z Wheelix sul suo canale Ragazzi Se volete andare un'occhiata Ovviamente lascio anche il link del canale Di Z Wheelix in descrizione Dovete per forza andarlo a vedere Poi se volete iscrivervi È una vostra scelta Oppure Z Wheelix viene a picchiare fino a sotto casa Esatto E se non vi iscrivete vi Strappo come Pacciani Ok, secondo giro Andiamo qui Ok ragazzi, secondo giro Dai, dai, dai Cioè possiamo fare Sono quarto Posso ripigliarti Su forza Sì, sì, sì Anche se è molto semplice la gara qui Secondo me in questo caso La X80 Pro Tipo queste macchine più veloci Sono ottime Perché guarda Tutto dritto Premi l'R2 Acceleratore Vai Cioè tranquilli Ok ragazzi Sento un Z Wheelix Abbastanza concentrato Eh Però abbastanza anche indietro Mannaggia Queste gare veramente sono Boh, non lo so Sono strane Sì Prendeci l'abitudine Con due B Di farle Attenzione, attenzione Esatto L'abitudine Quanto pari No, sono secondo Bene così Faccio di trip mentali da solo Andiamo un po' di recuperare Aston Matthew Tu che posso stare Z? Terzo dietro di me Terzo Oddio addirittura Non me l'aspettavo Guidavo beato Tranquillo Nel mio mondo E ho visto che sei arrivato quarto Dai, dai, dai Che forse Qualcosina posso fare Sì Vediamo, sì Dai, dai, dai Attenzione Subito il turbo Oh la Madonna Certi senti sono immensi Veramente Oh Bam Ok Mi ha dato 200 RP Per aver fatto una Un'acrobazia in volo Tipo random Girando Però per far sta cazzata Ho perso tantissimo tempo Dal primo obbio Ma sti cazzi Cerchiamo di fare Bene Quest'ultima parte di gara Ah, benissimo Dai Te ancora non hai Non hai concluso Ora, ora, ora Eccomi, eccomi Ah, ora Concludiamo in seconda posizione Va bene così, dai Va bene così Una gara abbastanza semplice Ma figa Vi lascio ovviamente il link Della gara in descrizione Anche ho finito Z Willix E' finito pure tu Bella così Raga Se siete arrivati Un po' soprattutto Fine qui Mi raccomando Lasciate un like Che ti supporto Anche per Martino Eh, Martino Andrà sempre in salotto Vi consiglio raga Di andarvi a vedere Il video che vedo Con Z Willix Perché pure è stato Abbastanza divertente Un po' più lungo Di questo E niente raga Ci vediamo al prossimo video Un saluto da Il vostro Alfix Da Z Willix Ci sentiamo al prossimo video Ciao Bella